Concittadini, buonasera e buona domenica a tutti. Ho deciso di fare questo videocomunicato per richiamare l'attenzione di noi tutti all'evolversi della diffusione del contagio coronavirus e soprattutto anche a seguito del comitato tecnico tenuto stamattina in prefettura con tutti i sindaci, con il direttore generale dell'ASA e il suo eccellenza il prefetto. Consentitemi, prima di entrare nel merito di questo incontro, di confermarvi che un nostro concittadino è stato contagiato, attualmente le sue condizioni fisiche sono stabili, tutti quelli che hanno avuto contatti sono stati messi regolarmente in isolamento fiduciario domiciliare e che si tratta di un unico caso di contagiato. Voglio salutare il mio concittadino e dare la mia piena solidarietà alla famiglia per quanto sta accadendo. Sapete che questa settimana la Puglia si prepara al picco del contagio e chiedersi di non essere preoccupati è del tutto da incoscienti. C'è stato questo nuovo DPCM del Presidente del Consiglio e bisogna osservare determinate regole. Noi le abbiamo messe già in atto da ieri e anche oggi, dopo l'approfondimento che si è avuto nella riunione del Comitato Tecnico, abbiamo chiuso le scuole di ballo, le sale giochi, sale scommesse, pub, discoteche, palestre, impianti sportivi, la villa comunale e altri centri di aggregazione come i circoli ricreativi. Perché stiamo facendo questo? Perché la diffusione del contagio è enorme, da oggi sono fermi tutti i mezzi di trasporto pubblico da e per il nord, interessato da conclamati focolai. Questo ci consentirà più agevolmente di andare a individuare, a differenza di prima, chi si ricava nel nostro territorio. Oggi dovrebbe essere un po' più semplice nell'individuare e questo faccio un appello anche a tutti i concittadini. Se sapete di qualcuno che è venuto dal nord, da queste zone, lo comunicate personalmente a me o ai vigili urbani e noi provvederemo immediatamente a mettere in atto tutta la procedura prevista dalla norma. Per cui determinare, osservare queste regole porterà vantaggio a tutti quanti. Il Prefetto ha garantito che in questi giorni, dopo il Comitato di Sicurezza, le forze di polizia, carabinieri e vigili urbani vigileranno su quelle persone che sono entrate nei nostri territori andando a identificarli. Voglio dire solamente fatelo spontaneamente perché farete una grande opera per tutti quanti e per voi stessi. E voglio rammentarvi altresì che state disposti a una sanzione penale per chi non ha osservanza di questa ordinanza. Ovviamente l'appello di queste regole non è solamente per il mio comune e per tutta la provincia BAT. Abbiamo tutti lo stesso scopo, lo stesso interesse di non creare contagio. A che serve aver chiuso le scuole? Se poi vediamo tutti i ragazzi aggregati, dovete eliminare tutto questo. Sono fiducioso che tutti insieme possiamo veramente raggiungere la nostra meta, cioè quello di sconfiggere il contagio del coronavirus. Grazie e buona serata a tutti.